C'è una cosa che voglio dirti e voglio che ascolti con molta attenzione perché è molto importante. L'uomo che è uscito da questa camera un momento fa è un mio carissimo amico perché lo conosco ormai da tanto tempo? Beh ci sono tante persone che conosco da un bel pezzo e ad alcune non farei neanche pulire il culo del mio cane, altre mi sono del tutto indifferenze, non contano per me ma Larry per me conta molto e la ragione è che posso fidarmi, io so che posso fidarmi, è onesto, Larry è una persona onesta. Anche tu sei una persona onesta, ne sono convinto perché radicato profondamente dentro di te c'è qualcosa che combatte per l'onestà. La domanda che è il caso che tu ti faccia è se questo qualcosa è presente in tutti gli aspetti della tua vita. Che vorrebbe dire? Vuol dire che il tuo propagandare Gesù non è diverso da quando Larry o chiunque altro propaganda i lubrificanti, non ha importanza se cerchi di vendere Gesù o Buddha o i diritti civili o come arricchirsi nel settore immobiliare senza rischiare un soldo. Questo non fa di te un essere umano, semmai fa di te un agente vendite, se vuoi parlare con qualcuno sinceramente da essere umano chiedigli dei suoi figli, scopri quali sono i suoi sogni, sono per saperlo, per nessun'altra ragione. Stavamo parlando prima del carattere, mi hai fatto delle domande sul carattere e allora si è parlato delle facce, ma la questione è molto più profonda di così. La questione è tu ne hai di carattere o no? E se vuoi la mia sincera opinione, Bob, non ne hai, per la semplice ragione che ancora non provi rammarico per qualcosa. Vuoi dire che non avrò carattere finché non avrò fatto qualcosa che mi rincresce? No, Bob, perché di sicuro hai fatto tante cose di cui rincrescerti, solo che non sai quali sono. E quando alla fine le scopri, quando vedi l'assurdità di qualcosa che hai fatto e desidereresti tornare indietro, cancellarlo, ma sai di non potere perché è troppo tardi. Quindi quella cosa non puoi che prenderla e portarla con te perché ti ricordi che la vita va avanti. Il mondo girerà anche senza di te. Alla fine tu non conti. è allora che acquisterai il carattere perché l'onestà emergerà da dentro di te e come un tatuaggio ti resterai impressa sulla faccia. Fino a quel giorno, in ogni caso, non ti puoi aspettare di arrivare oltre un certo punto. Posso andare adesso? Vai, vai. Grazie.